Prosegue la musica a Total Quest Live, siamo in diretta dal fuori tarico di Palermo e su questo palco si interpretano gli umori di chi alla mattina vorrebbe essere svegliato soltanto sussurrando. E allora, con svegliarsi la mattina alizero assoluto! E' l'ultimo, mi do di strillare! Preparatemi! Con la voglia di parlare, non sarà per te!